buongiorno a tutti buongiorno bentornati in un nuovo video quest'oggi sono in viaggio per andare a casa di simone nolasco per chi già lo conoscesse non c'è bisogno di presentazione per chi non lo conoscesse invece simone è un bravissimo ballerino conosciuto dai più in quanto ballerino professionista nel programma televisivo amici in ogni caso simone è un bravissimo ballerino ora oggi in realtà non sto andando a lavorare sto andando a fare l'albero di natale con lui edese ragazzo non scherzo sto andando con il mio studio che ci ho più caricato in macchina dopo vi mostrerò a montare un set a casa sua dobbiamo fare dei contenuti per instagram che simone pubblicherà per conto di ciò col godietto ci sarà l'albero di natale eccetera eccetera perché comunque è un lavoro a tematica natalizia intanto continua a piovere senza fine e niente vedremo oh è buio se magari passa sta galleria roma non fa la stupida stasera ciao buongiorno buongiorno che bella giornata bellissima ma torni un corriso naturale un corriso naturale con la fascetta da rambo se mi provi un cazzatissimo con questo sorriso che cos'è un acido muriatico acquaraggia acquaraggia mai comprare questo mai abbinarlo a questo stava documentando la mia rovina il dulzio del ence esatto il ghiaccio l'hai rovinato come si chiama la pozione che ti bevi tu? mate mate? mate e che c'è dentro? è come il caffè c'ha la caffè la teina il mate la mateina è un po' come il matcha ecco tipo si tipo il matcha poi loro lì ovviamente si fa un mate e si passa capito? si mettono tutti in cerchio e si passa sempre a destra e tipo lo riempi con l'acqua e te lo puoi bere solo una volta invece chi lo prepara può bere due volte però tipo se io se a me me l'hanno passato me lo bevo e lo devo subito ripassare altrimenti sono un cazzo vai andiamo a fare il set namo namo moridiamo 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 questa scala mi vuole vado subito petita non troppo qui sto jutando sto jutando Siamo messi a lavoro Che cali Che cari Che cari Che cari Chi è? Abbiamo montato lo set Facciamo l'albero Che dici Ese? Ci siamo? Ci siamo Questi hanno già fatto l'albero Oggi glielo smonto Dove lo mettiamo Simo l'albero? Tipo un po' lì No? Dobbiamo staccarlo l'urbe Se no ci portiamo via dietro l'urbe Io sono molto utile Io in quadro d'urbe Sarai utile tra poco Tutte scuse Mi sto sentendo Mui in colpa Sono già due volte In una settimana In cui mi trovo Ad assistere Ad alberi Che si spostano Che rischiano di cadere Quindi Non basta mai Mai Vorremmo mettere la faccia Che non vengo La tuta È molto Bello il puntale È sobbia Bello Che rischiano di cadere Che rischiano di cadere Che rischiano di cadere Che rischiano di cadere Dio, help me! Si sta sfondando il nostro rumore! Dai, ce la stiamo facendo! Yes! Papà sarà fiero di me! Flash montato! Tutte le belle palline, le belle palline con la neve, tutto nevato, quasi tutto fatto! Come posso prendermi seriamente? Io mi chiedo! Io ho il mood mamma castoro, il video nel video, il meta video! Che ci manca? Eh, un po' di cinta! Cos'è la cinta? Per noi è la cinta delle scotch! Cinta tutto! Abbiamo aumentato tutto! L'albero del set! Iniziamo allora? Vamos! Ciao! 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 Sfigata questi! Poi a culo è nata rossa! Sì, sì! Sei pronta a sfondarti di sushi qualche? Si, non vedo l'ora! Noi, nel frattempo mi rovino i denti con questi bastoncini di zucchero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non capisco. Tipo quella macchinetta per scattare. Poi mi ritrovo così, bianca, senza sovracciglia. Dopo vi faccio vedere Ezequiel le cose belle che fa. E' arrivato il sushi! Che è successo? Tu Rulega si è mangiata tutto. No, che si è pieno, si è spaventato della ragazza che ha portato il sushi. E lei ha preso un culpo e tipo gli ha lasciato il chip e è scappato. E' pronto? Ma è pronto, si mangia? Ovviamente di fan video, ecco. Guarda un po', va bene lavorare però. No, non è buono. Buono? Era super buono. Tu hai mangiato, ballerino? Assolutamente sì. Guarda qua. Assolutamente sì. Eze, tu hai mangiato? Ah, voglia, guarda. Ti è piaciuto? Madonna. No, 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 finito. La gente che guarda i video su YouTube ama vedere i video della gente che mangia. E allora guardate questo, tiè. Un milione di video. Esatto. Je soy piena. Io tambien. E sto i jena. Brava. Ienissima. Eze, Piel e Simo me lo faccio riempire come un porcelletto. E sei felice, guarda. Sì, mamma, panza gena. Cuore felice. Quindi quando la facciamo questa cosa della porta però, dove la facciamo? Eh, la. No, dimmi. Che dimmi. No, possiamo pure, cioè tipo, mi metto fuori dalla porta, prendo dei banchi. Sì. Ok, possiamo pure farlo lì, eh. Sì. Sì. Lo lasciamo col fondo nero, col fondo scuro. Ok. Allora, penso anche meno pacchi. Sì, era per coprire la faccia. Ah, non ci arrivo però, purtroppo. Guarda, va bene pure. Lo sai che puoi fare? Sì. Le prendi uno. Sì. Questo fino lo metti dritto. Quindi abbiamo finito. Sì. Le foto di video. Sei tornato in un comune mortale. Ah, sì. Non più follettello. Non sono più un folletto della cornovaglia. Niente più foglie... Foglietto. Niente più folletto della cornovaglia. Allora, facciamo due foto. Due foto. Facciamo due foto. Questa è la tua moda e buonanotte. Ok. Guarda. Guarda. Sì. Matta. Oddio. Ho sudato. Su, dai. Su, dai. Ok. Abbiamo finito. Tutto quanto. Ora volevamo fare due foto con Simo. Giusto così per poter dire di averle fatte. Abbiamo ricomposto l'albero. Cioè, hanno ricomposto perché io, come al solito, ho guardato mentre facevo video. Abbiamo smontato il set, anche se ora lo useremo per fare qualche foto. Sistemiamo tutto. Simo sta facendo il caffè. Ese è uscito un attimo a comprare due cose. E niente. Vado a far paura a Simone mentre fa il caffè. Perché ha detto che a lui piace fare paura a Ese. Quindi io vendicherò Ese. C'è nessuno? Eccoci. Ci facciamo un caffè? Sì. Ma è una salita per farti paura. Con me non funziona. Dio, aspetta Ese. Mi sono messa paura io. Farò tutto vuoto. Allora che si. Allora che adesso che torna. Ok. Però è appena andato, eh. Quanto ci mette? No, pochissimo. Purello volevo vendi a Ese. Invece in realtà, a fine so, becca lui lo scherzo. Oddio, non vedo l'ora che gli fai paura. Ma boba, ma che cattivo. Sì, ma tu non sai come fa lui. Non fare gli scherzi. Non sai come fa lui. Lo cuofi. Questa cosa dei video selfie mi sta sfuggendo di mano. Lo percepisco. Mi sta veramente sfuggendo di mano. Arriva. Io non volevo, giuro. Io non volevo. Stai vista, però, come fai. Capisco che uno spasso questo. No, ti prego, guardiamo. Muoio, muoio. Peppino, amore. Muoio. Che strano. Mi fai vedere che cosa combini? Ti faccio vedere tutto. Nella tua cripta. Là sotto, nascosto. Mostrami. Allora, spiegami un attimo. Tu fai questi... Io faccio tutte le opere con la resina eposidica e anche altri materiali. Ok. Però principalmente con la resina. Paesaggi così. Una spiaggia con il prato. Eh sì. Due isola e la barca. Osservare i dettagli, signori. Ma come hai fatto questa barchina? Quella con il legno e il... E il dasso, sempre. Eccolo. E l'isola? No, quello con il gesso. Yes, ecco. Con il gesso. Il gesso. Ok. Eh sì, adesso sì. Voglio mettere il tuo nome. E questa si chiama Peña Roll. Sì, perché è un club di football della mia città. Sono nato lì. che ha questi colori. Nero, giallo e bianco. Io ho fatto un Ginny Jan. Come si dice? Ginny Jan, ok. Ginny Jan, però... Bellissimo. Pure questo è tutto con la resina, però questa è resina metallizzata. Sì, sì, sì. Vedi che c'è il brillo. Un po' brillo luccicoso. Cioè, tipo glitter. Ecco. E la resina è questa, è liquida. Ok. Si mette 50 e 50. Un catalizzatore e la resina. Un endurezzatore. E dopo se mette i colori metallizzati, dopo con estossicadente, pennello, tutto. Troppo bello. E dalla forma. Troppo carino. Bellissimo. Hai visto? Mi ha fatto vedere delle apure troppo belle. Hai visto? Sì. Cucciolone. È un artista, è un artista. Vero? Super bello. Ma qui mi ha fatto vedere che sta costruendo tutta questa cosa. Sì, questo qua è la prima volta che fa una cosa del genere. Mi ha detto? Perché una ragazza gli ha detto in qualsiasi modo tu riesca, ma mi fai questa foto come se fosse un quadro. In questa combino diversi tipi di... Diversi tecniche, diciamo. Sì. Sì. E questa foto. Non la devo rifare, no? Ah. Qua c'è la resina. Questo lo devo finire, però... Questa ragazza... Ah, bellino. E dei cani. Oh, ma che figata. Pure i cani li hai fatti con che cosa? Con il duck? Eccolo. Sì, tutto a mano. E la devo finire. Ma è bellissimo. Questo me l'hanno chiesto... Te l'hanno commissionato. Non l'ho mai fatto una cosa così. Ma è bellissimo. Ti piace? Super. Beh, ragazzi, io scriverò qui sotto il contatto di Ezequiel di Instagram. Contattatelo, seguitelo. Grazie, Lina. Mi fa anche su coordinazione. Tutto quello che vuoi, Lina. Tutto quello che volete. Ne volete. Tutto quello che volete. Tutto. Pure lui in pacchetto. Simone in pacchettato. Ve portano tutto. Ve lo portano loro il pacco e restano con voi. Quindi, mi raccomando. Qui vi scrivo, contatto di Ezequiel. Ripeto, seguitelo. Guardate che meraviglia. Paravana la canterei per tre mesi. Sì. Giornata infinita, però alla fine siamo... Quante ore? Siamo arrivati. Quante ore siamo stati? Dieci ore. Dieci ore insieme. Però siamo soddisfatti. Molto, molto soddisfatti. E presto lo vedrete anche voi. Vero, Valentina? Prestissimo. Grazie per averci seguito. Buon Natale a tutti. Buon Natale, è vero. Buon Capodanno. Buon Natale. Felice anno nuovo. Felice anno nuovo. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di iscrivervi, attivare la campanella e le notifiche, lasciare i commenti e speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Io, Simo e Seguiel Tulumera. Tulumera. Turulega e Tulum. Turulega e Tulum vi salutano. Tulu. L'altro è stato tipo chi vede. Tulumera. Vieni. Ah, sto male. No, raga, questo è spuntino notturno. Vai, dentro. Ciao Tulum, ciao Turulega. Buonas noces. Troppo, cari. Sono cani. Una settimana, una settimana. Ciao ragazzi. Ciao bella. Ciao. Sicuramente ti porta la merda della gallina e le scarpe. Che bello. Non ti dimenticare mai. Mai. Scrivi quando arrivi a casa. Sicuro. Vi mando la fata della cacca sotto le scarpe. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.